Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Bambino cade dalla bicicletta e si trancia un dito trasferito in elicottero al torrette di Ancora Imprenditore pesarese denunciato dalle fiamme gialle per frode nei confronti del fisco sequestrati beni ed una villa con piscina L'assessore Marina Barniesi, indagata dalla procura di Pesaro per assenteismo Lei si difende, dimostrerò la mia estraneità Paura per un settantenne che domenica mattina si è schiantato con l'auto nel rettilineo tra Lucrezia e Calcinelli Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Un cordiale saluto dalla redazione di Fanno TV Benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione Occhio alla Notizia sul canale 17 Momenti di paura, momenti di apprensione nel pomeriggio a Fanno in un parco pubblico nel quartiere di Centinarola dove un bambino, un bambino di 10 anni cadendo dalla bicicletta si è tranciato un dito della mano Un bambino di 10 anni di Centinarola rischia di perdere una falange della mano sinistra per un incidente fortuito accaduto gli oggi pomeriggio mentre giocava con la sua bicicletta nel parco di Centinarola Verso le 18 di oggi un'eliambulanza è atterrata nel campetto da calcio poco distante i giochi per i bambini per trasportarlo al torrete di Ancona dove ad attenderlo c'era un'equipe di neurochirurgia per tentare di riattaccargli il dito indice della mano destra che gli si è troncato di netto per la caduta dalla sua bicicletta gialla Una fatalità, ci dicono i soccorritori del 118 intervenuti sul posto a volercelo infilare apposta il dito in quella fessura non ce la si farebbe ed invece per il piccolo è andata proprio così Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Fano per dar manforte ai tre operatori dell'ambulanza a ritrovare la falange staccata e poter dare così una speranza al piccolo ma non è servito perché nel frattempo l'infermiere dell'ambulanza l'ha ritrovato e consegnato all'equipaggio dell'elicottero che è decollato subito per il torrete mentre i genitori che abitano a poche decine di metri dagli spogliatoi del campo da calcio sono partiti in auto alla volta di Ancona Ora tutto è nelle mani dei neurochirurghi La guardia di finanza di Pesaro scopre una frode da 3 milioni e mezzo di euro nei guai ci è finito un imprenditore pesarese Proventi italiani ma vantaggi fiscali esteri Questo modus operandi è costato caro da un imprenditore pesarese di prodotti per la casa Facendo transitare per la Repubblica di San Marino la merce sfruttando indebitamente i vantaggi fiscali della Repubblica del Titano immetteva sul mercato nazionale i prodotti a prezzi molto concorrenziali realizzando così però un illecito La guardia di finanza di Pesaro ha scoperto una frode fiscale da 3 milioni e mezzo di euro messa in atto da un imprenditore pesarese rappresentante legale di due società con sedi a San Marino ed in Italia Le indagini partite inizialmente da una ordinaria ispezione fiscale sulla società italiana ha ben presto svelato che l'imprenditore denunciato operava attraverso una società detta tecnicamente estero vestita ovvero sia con sede nella Repubblica di San Marino ma di fatto gestita dall'Italia I finanzieri sono riusciti a ricostruire però i rapporti tra le due società anche grazie allo scambio di informazioni con la Repubblica san marinese per il recente patto di cooperazione amministrativa I beni sequestrati, numerosi immobili, conti correnti e una lussuosa villa con piscina da 1.200.000 euro rientravano nel patrimonio di una società bolognese gestita dai figli dell'indagato ma di fatto erano nella disponibilità dell'imprenditore L'azione investigativa delle Fiamme Gialle ha così portato alla denuncia a piede libero del responsabile per gravi reati tributari Marina Barnesi, assessore alle politiche sociali del Comune di Fano è una psicologa dell'area vasta numero 1 La Procura di Pesaro, assieme ad altre 5 persone, l'ha iscritta nel registro degli indagati per assenteismo Lei però si difende e dice dimostrerò la mia estraneità ai fatti Non ci sono dubbi sulla mia estraneità ai fatti che mi vengono imputati ovviamente è un'indagine in corso e quindi è giusto che la Procura una volta che ha sul tavolo una documentazione, una richiesta la debba portare avanti ed è giusto che io possa spiegare però, ribadire correttamente sia qual è il mio ruolo, sia quali sono le mie funzioni e quindi diciamo, questo equivoco mi auguro davvero venga chiarito al più presto e quindi il massimo auspicio che quanto prima si possa risolvere con l'archiviazione dell'indagine La Procura di Pesaro accusa di assenteismo la dipendente dell'area vasta 1 Marina Barnesi nonché assessore alle politiche sociali del Comune di Fano ed esponente del PD locale Sono una decina gli episodi al vaglio degli investigatori nei quali la dipendente avrebbe timbrato il cartellino di lavoro e poi si sarebbe trovata fisicamente da altre parti, non nel suo ufficio ma questo specifica la Barnesi e insito nella mia attività lavorativa Non sono accusata di null'altro che dell'essere in orario di lavoro anche in un territorio che tra l'altro ricopre l'area vasta provinciale Del resto io sono l'unica psicologa che lavora su un territorio di 136.000 abitanti e quindi vi lascio ben immaginare che è virtuoso il fatto che una persona, un operatore non stia solo fermo nel territorio, nel suo comune di riferimento ma che si adoperi se viene chiamato, se viene richiamato anche a collaborare con dei colleghi che sono altrove La psicologa non sarebbe la sola ad essere sotto la lente di ingrandimento della procura ci sono altre 5 persone ed un altro troncone di inchiesta sarebbe stato aperto e riguarderebbe società private che forniscono le ambulanze per i servizi sanitari Ora, dopo che il suo legale, l'avvocato pesarese Paolo Fumelli ha inoltrato alla procura una memoria e la richiesta di interrogatorio non rimane che attendere i tempi della giustizia Beh, sono molto intristita, ecco, da questa vicenda non mi appartiene questo mondo a volte penso davvero che sia un brutto sogno e che prima o poi mi sveglio e ritorniamo alla normalità quindi spero davvero che si concluda presto nel migliore dei modi La scorsa notte a Pesaro i carabinieri del nucleo provinciale hanno denunciato in stato di libertà un cittadino straniero 27enne ed un italiano trentenne per guida in stato di ebrezza sono stati colti entrambi in flagranza di reato da una pattuglia dei militari in servizio di sorveglianza L'istituto comprensivo Leopardi di Colli al Metauro si è recato a Taranto per incontrare il capo dello Stato Mattarella per l'apertura dell'anno scolastico noi siamo andati a sentire come hanno vissuto questa esperienza Partecipare alla cerimonia ufficiale dell'apertura dell'anno scolastico alla presenza del capo dello Stato la maggior parte di noi l'ha vista in televisione ma per alcuni fortunati questa è stata una giornata particolare una scuola del nostro territorio la Leopardi di Colli al Metauro era a Taranto per l'apertura di quest'anno in rappresentanza delle Marche un piccolo grande risultato per una piccola grande scuola dove nei corridoi si respira ancora l'odore di una volta ma che è all'avanguardia nella progettualità e negli interventi dei suoi docenti noi siamo andati ad incontrare il preside e quelli protagonisti di questo bel risultato collettivo A volte si crede che nelle grandi città ci sia la maggiore qualità e invece è bello scoprire che anche nelle zone limitrofe veramente si può fare molto bene e in questa scuola è stato fatto quindi proseguiremo su questa strada Allora, partecipare all'apertura dell'anno scolastico in presenza del capo dello Stato non è cosa da poco come siete riusciti ad arrivare a questo risultato? Siamo stati selezionati grazie ad un progetto presentato nello scorso anno scolastico Terra Bene Comune la cui titolazione parte un po' da lontano eravamo stati precedentemente classificati tra le prime dieci scuole per l'Expo nella manifestazione Expo di Universale di Milano 2015 e avevamo pensato di proseguire in questo intento cioè di fare riscoprire ai ragazzi il locale il territorio locale con tutto quello che ha in sé su bellezze paesaggistiche tradizioni, valori, memorie, cultura e parte da lì la nostra azione progettuale ma si è spostata incentrando l'attenzione su quella che è la sostenibilità ambientale l'impellenza, l'urgenza oggi di quello che l'ambiente richiede e per quello che sta succedendo all'ambiente tocca anche i ragazzi da vicino e quindi abbiamo voluto con loro lavorare su un'attività riscoprendo quali possono essere per i ragazzi quelle buone azioni quelle buone pratiche da spendere sul territorio è stata una bellissima esperienza poi l'essere citati e essere stati in qualche modo individuati come scuola delegazione delle marche insieme ad un'altra scuola di Corredonia ci ha fatto il tremolo di piacere per cui anche le ragazze erano molto emozionate dico la verità e noi pure in alcuni passaggi è stato anche nei passaggi sia del ministro ma anche in vari passaggi dei ragazzi ci sono stati dei momenti direi molto commoventi e non tutti vanno a scuola per studiare qualcuno ci va anche con altre intenzioni come questo studente di 18 anni residente in Romagna ma allievo della scuola d'arte Mengarone di Pesaro che è stato arrestato dalla polizia e dalla guardia di finanza con 21 grammi di marijuana in buona parte suddivisi in 11 dosi nello zaino aveva anche uno spinello e 179 euro sapendo di dover vendere il prodotto si era portato dietro un bilancino di precisione un coltellino che doveva servire a tagliare la droga ha tentato di svignarsela appena ha notato la presenza di poliziotti e fiamme gialle davanti alla scuola ma il pastore tedesco Ebro della guardia di finanza hanno usato l'odore della sostanza stupefacente il ragazzo è stato bloccato e perquisito poi gli inquirenti sono andati a casa dove sono andati a casa sua dove non hanno trovato altra sostanza stupefacente nel telefonino dello studente però c'erano immagini che lo ritraevano mentre tagliava la droga all'interno della scuola i controlli continueranno anche nei prossimi giorni già una settimana fa sempre al Mengarone di Pesaro un altro studente era stato pizzicato dalla polizia con la droga in tasca l'udienza di convalida dell'arresto del 18enne è prevista per domani a cui seguirà il processo con rito direttissimo il giovane deve rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio oltre che di porto illegale d'arma bianca ovvero il coltellino paura per un settantenne del posto che domenica mattina intorno alle 7 lungo la vecchia Flaminia tra Lucrezia e Calcinelli si è schiantato con la sua auto una Opel finendo prima contro un muretto di recinzione di una casa e poi in mezzo alla strada adagiato su un fianco vedete le immagini di un nostro reporter di strada l'anziano ha fatto tutto da solo lungo il rettilineo ha perso il controllo dell'auto e ha iniziato a sbandare per poi finire violentemente contro appunto un muretto e ribaltarsi nell'impatto si è ferito alcuni automobilisti in transico hanno chiamato il 118 e per estrarlo dall'abitacolo sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco di Fano ed ora passiamo allo sport con Matteo Del Vecchio grazie Marco e benvenuti all'appuntamento con lo sport apriamo come sempre con il calcio e con l'alma che ieri era chiamata a vincere per uscire dalle sabbie mobili della classifica cosa che purtroppo non è avvenuta e ora per i Granata le cose iniziano a complicarsi un gol di Papa alla mezz'ora del primo tempo condanna il Fano al quarto stop consecutivo una sconfitta forse frutto della troppa frenesia che i ragazzi di Cuttone mettono in campo smaniosi di conquistare i tre punti che sarebbero stati fondamentali in chiave salvezza eppure parte forte il Fano che dopo pochi minuti va vicino al gol con Eclou che colpisce la traversa di testa su angolo di Filippini quella del Ghanese assieme a quella del Ravennate su cui esce bene Miori sono le uniche due azioni prima dell'Euro-goal di Papa che sorprende l'estremo difensore fanese con una bordata dalla distanza tanto bella quanto fortunata al trentacinquesimo Fioretti e Maddaloni provano a suonare la carica senza però riuscire a trovare la via della rete stesso copione nella ripresa con l'alma che prova a gettare il cuore oltre l'ostacolo e il Ravenna abile a ripartire in contropiede al sedicesimo Cuttone inserisce anche Melandri per cercare di scardinare il fortino Ravennate che però regge bene e senza particolari affanni al trentottesimo episodio dubbio in area ospite con Fioretti sbilanciato al momento del tiro per l'arbitro Tursi di Valdarno è tutto regolare e di sicuro anche questo è il segnale che in questo momento al Fano le cose non girano bene sotto ogni punto di vista Ferrani e compagni che ora si trovano al penultimo posto in compagnia del Sant'Arcangelo proveranno ad invertire la rotta già da mercoledì quando il turno infrasettimanale metterà di fronte ai Granata il Forte Vicenza corazzata allestita per il salto di categoria e che può vantare la seconda miglior difesa del campionato con soli due gol subiti e dal calcio passiamo al rugby perché ieri per il Fano è ufficialmente iniziata la stagione 2017-2018 stecca la prima la squadra del tandem Walter Colaiacomo Franco Tonelli che cade in casa 31-13 per mano dello Iesi squadra retrocessa lo scorso anno dalla B e seria candidata a ritornarci i rosso-blu inseriti nel girone E del campionato nazionale di C1 pagano un primo tempo un po' sottotono dal punto di vista offensivo e nella ripresa non riescono a dare continuità al forcing che li ha visti avvicinarsi agli ospiti fino al punteggio di 13-24 prima della meta finale dei Leuncelli che forse penalizza eccessivamente la squadra fanese per i ragazzi del presidente Brunacci la meta del nuovo arrivato Simone Battisti e 8 punti su calcio piazzato di Alessandro Gasparini a far d'antipasto al match c'è stata sabato la presentazione della squadra con i saluti del sindaco Massimo Seri dell'assessore allo sport Caterina Delbianco e del presidente regionale della FIR Maurizio Longhi a seguire la giornata c'erano anche le telecamere di Fano TV che trasmetterà nei prossimi giorni uno speciale sull'evento e con l'inizio di ottobre è partita anche la stagione boccistica e non poteva iniziare meglio per la squadra di Lucrezia del presidente Luca Conti Al trofeo Sesto Rosa gara nazionale femminile organizzata dalla bocciofila Sestese di Firenze a fare la voce grossa è stata Flavia Morelli che dopo la recente conquista del titolo italiano allieve si conferma in stato di grazia e vince la medaglia d'oro e in ottima forma anche la sua compagna di squadra e vice campionessa italiana Chiara Gasperini che alla competizione toscana ha fermato la sua corsa in semifinale stoppata proprio dalla compagna di squadra e come promesso anche stasera diamo spazio a discipline mediaticamente meno famose e in questo caso parliamo dei campionati nazionali di tiro alla balestra La LITAB Lega Italiana Tiro alla Balestra ha organizzato lo scorso 10 settembre a San Severino Marche l'ultimo atto di una stagione che ha visto sfidarsi durante sei prove nell'arco dell'anno le compagini di Cortona, Firenze, Mondaino Sulmona, San Severino Marche Cagli, Mondavio Cerreto Guidi e Senigaglia a dominare la scena piazzando ben sei balestrieri tra i primi dieci è stata proprio la squadra di Senigaglia che ha conquistato così l'intero podio nella gara individuale e il titolo di campione di taglia squadre superando le formazioni di Firenze e Cortona e con questa singolare disciplina si chiude la pagina sportiva di questa sera io come sempre vi ricordo l'indirizzo mail al quale poter inviare le vostre segnalazioni che è sport.fano.tv per questa sera è tutto grazie dell'attenzione e l'appuntamento con lo sport torna puntuale lunedì prossimo buona serata ok grazie allora Matteo Del Vecchio vi ricordo agli appassionati di calcio e soprattutto dell'alma che su sporttube.it ci si può abbonare e quindi ci si può vedere la partita in diretta anche una singola partita alla volta oppure fare un abbonamento per seguire tutta la squadra allora a questo punto del telegiornale vi ricordo che mercoledì vi do la notizia che mercoledì in diretta qui su Fano TV ci sarà primo cittadino con Matteo Ricci sindaco di Pesaro per intervenire in diretta si può chiamare come sempre lo 0721 86 14 33 oppure inviare messaggi sms o whatsapp al 338 49 68 250 dunque appuntamento a mercoledì nella grande famiglia di Fano TV la famiglia chiaramente allargata è quella che comprende tutti voi i telespettatori questa sera andiamo in conclusione di TG a fare gli auguri a Federico Nori e Lidia Ragaini sono di Torrette di Fano una coppia di coniugi che ha festeggiato ieri ben 60 anni di matrimonio e allora a tutti voi tanti tantissimi auguri tra poco box i personaggi di Fano e poi in cucina con lo chef subito dopo la programmazione di Fano TV l'informazione finisce qui noi ci vediamo domani mattina alle 7.30 puntuale in diretta con Occhie Giornali la rassegna stampa grazie per averci seguito a domani grazie per aver guardato l' thếpulatto l'informazione M